Il nostro gruppo di poeti che ci onorano dall'Irpinia in questa bellissima manifestazione grave di settesima edizione della poesia di Giorgia Alfina e a te scegliamo la parola per presentarti e per presentare il prossimo momento a te Buonasera a tutti, felicissima di essere qui questa sera insieme a voi qualcuno mi ricorda già dell'anno scorso ma è la terza volta consecutiva che vengo qui grazie al Cavaliero del Centro Studi Storici Vincenzo Di Sabato non mi chiedo scusa, l'emozione è forte e io oggi ho il compito di fare più di una cosa quindi se mi ascolterete faccio una brevissima preghiera sugli angeli e dopo mi riluppo giusto un attimo Salve, sto per diventare no una più di occhiali di servo grazie Angelo custode Angelo mio custode proteggi l'animania coprimi con le tue ali quando mi vedi in difficoltà e portami lontano dal pericolo che incompino ogni tue proteggimi ti prego quando mi vedi confusa non permettere che mi perda per le vie del male ma conducimi sempre sulla retta via ti sono stata affidata fin dal primo respiro porta a termine la tua missione vegliami anche in sogno affinché il dono di averte il mio fianco non sia stato vano grazie 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 grazie